Ciao, vi ricordate che qualche tempo fa ho fatto una recensione delle action figure dei pokemon della tommy e che ero diventata ero impazzita a vedere sul plant che c'era dentro delle figure delle mega evoluzioni dei primi dei starter della prima generazione beh ecco finalmente sono arrivati anche quelli dove lavoro e che bello allora c'era c'erano questi c'era lui c'era mega benusaur c'era mega blastoise non c'era mega charizard y c'era l'action figure di ash con pikachu poi c'era mega blaziken e basta credo si non credo siano arrivati altri di nuove new to non c'è più già da un po da un bel po insomma da quando l'ho preso io praticamente poi non sono più tornati cioè ne era tornato uno solo che volevo prenderlo per per qualcuno che me l'aveva chiesto su facebook ma mi sono accorta che praticamente gli mancava un pezzo e quindi niente quindi l'ho dato lì alle mie colleghe poi non sono più tornati cioè non non ce ne erano più in giro comunque allora questo come potete vedere la confezione è aperta si può vedere il pokemon la cosa bellissima è che vabbè a parte a parte essere veramente cioè è uguale bellissimo ma cioè parliamone è bellissima sta cosa ok allora la confezione è così qua c'è il logo pokemon qui c'è scritto battle attack mega benusaur qua c'è il logo della tommy qui c'è mega benusaur qui c'è pikachu qui dietro ci sono dei degli esagoni con non lo so con i vari tipi vedete tipo terra erba eccetera penso sia quello dietro dietro c'è pokemon go da kachemo kachemo basta non lo faccio mai più qua c'è scritto la battaglia iniziata qui fa vedere appunto che può lanciare questa questa cosa qua che però stranamente qui è verde scuro mentre qui è verde chiaro ma questo qui probabilmente è il prototipo perché o forse magari è la luce non lo so penso c'è la luce si penso c'è la luce qua dice attacco trottola con lanciatore wow e poi qui fa vedere gli altri che c'è go got che non lì da me non c'era mega charizard y e mega blast toys che c'era non so però cos'è che fa non ho guardato se tira ma sai ecco tira delle dei proiettili da i cannoni qua che ha sulle sulle dampe vedete non so se si riesce a vedere vedete questi ok già che l'ho tirata fuori c'è questo le istruzioni poi c'è il solito libricino vediamo se c'è roba nuova non penso comunque no perché è uguale è uguale a quello che avevo visto ah è vero perché io volevo prendere invece mega charizard x che vedete c'è anche questo ma da noi da me di dove lavoro non c'era no il resto è praticamente uguale perché anzi tra l'altro qui non c'è nemmeno mega blaziken oh si aspetta c'è no deve essere sempre la cosa vecchia perché appunto lì da me avevo visto anche mega blaziken questo è il disco adesso qua sotto il pokemon è tenuto insieme da dei fili di carta con i soliti cosi così ok allora è gigante cioè è veramente enorme allora fatto così ha le zampe posizionabili fantastico bene e c'è le zampe snodate per quanto si possano chiamare snodate comunque figata bellissimo qui c'ha tutto il suo fiore cresciuto perché questa è la mega evoluzione quindi è diventato gigante vedete qua ci sono proprio delle vere e proprie palme wow qua c'è il meccanismo di rilascio del disco qua sopra si mette il disco così e dice di girarlo aspettate cos'è che era un senso orario così e poi vediamo di farci male forse è meglio forse è meglio ed ecco che l'ho perso vabbè vabbè non è fondamentale anche perché se non sbaglio vabbè comunque vedete che si può anche ne ho fatto già vedere dalla scatola però così si può c'è il clic clac quindi si può posizionare fin qua però penso che io lo terrò così oppure vedo si può anche tirare indietro forse lo tengo così non so vabbè comunque qua c'è tutti i disegni della sul fiore e qua c'è il tronco gigante qui c'è il meccanismo per rilasciare il disco qua c'è tutti i disegni i denti bellissimo è veramente fatto bene c'è anche le mamma quasi mi cade tipo spuntoni qua sulle zampe wow questi qua sono fatti veramente veramente bene e cioè grande Tommy ok e cercherò di recuperare il disco vabbè allora alla prossima ciao ciao questo viaggio mi può da tutti i pochi qui qui